È uscito dal rettangolo di gioco tra gli applausi dei tifosi che hanno urlato il suo nome fino a quando la barella non l'ha portato fuori dal campo. Era in lacrime Paolo San Marco dopo che il suo ginocchio ha ceduto in un contrasto di gioco con Gagliolo durante l'incontro Frosinone-Parma di sabato pomeriggio. Il risponso sulle sue condizioni è stato impietoso. Il centrocampista, come riportato da un comunicato ufficiale del Frosinone-Calcio, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. San Marco verrà operato nei prossimi giorni dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma e i tempi di recupero, come specificato nella stessa nota ufficiale della società, verranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico. Una brutta tegola per Mister Longo, che è in infermeria, oltre a Luca Paganini, anche Danilo Soddimo, Mirko Gori e Alessandro Frara, con un centrocampo tutto da reinventare nella prossima partita da disputare contro lo Spezia. E sui social network è già cominciata da sabato una gara di solidarietà per il centrocampista dai modi gentili e mai sopra le righe. Quasi stona con il suo personaggio il gesto della pistola dopo ogni gol segnato per un calciatore che da subito si è fatto apprezzare a Frosinone per le sue doti professionali e profondamente umane. Subito dopo la promozione in Serie A, durante una trasmissione, confidò, sussurrando la pena, di vivere questa nuova esperienza quasi come una magia. A gennaio facevo la riserva alla Spezia, tutto mi sarei aspettato dalla vita, tranne che tornare in Serie A a 32 anni. Oggi ne è 34, Paolo San Marco, e un brutto infortunio come quello capitato gli sabato scorso non è certo da sottovalutare. Forza 21 è l'hashtag più utilizzato in questi giorni dai tifosi ciociari, ricordando a tutti il numero di maglia del calciatore, letteralmente inondato da messaggi di affetto. Forza Paolo, Frosinone e l'intera ciociaria fanno il tifo per te.